Ciao ragazzi e bentornati, Bologna-Juve finisce 1-1, il telecronista la definisce emozionante, io mi imbarazzo nel sentire un telecronista che definisce questa partita qua Bologna-Juve 1-1 emozionante perché significa che nella testa della gente siamo diventati una squadra al pari del Bologna e francamente ragazzi credo che con tutto il rispetto per il Bologna che ha fatto una signora gara per il monte ingaggi della Juve, per le ambizioni della Juve sia una cosa imbarazzante e quindi questa cosa non l'accetto, la partita come è stata? Bella, probabilmente divertente per gli esterni, non bella per noi juventini perché abbiamo assistito al festival dell'errore tecnico davanti alla porta dove qua Allegri con tutti i problemi che ha la Juventus, che non è che oggi li ha risolti magicamente tutt'altro, sono sempre palesi ed evidenti i problemi che ha la Juventus oggi butta via tre punti per una marea di errori tecnici di finalizzazione ragazzi ma perché non ci siamo abituati noi a questa tipologia di partite dove abbiamo 5, 6, 7 chance con 5, 6, 7 giocatori differenti le vanifichiamo, soprattutto con i più giovinotti perché non si trovano mai nella situazione di poter fare gol, di poter decidere una partita e viene il piedino, viene la cagatina abbiamo buttato una marea di occasioni ragazzi che c'è da mettersi le mani in testa perché poi queste partite qua le porti a casa con quei dettagli là, è inutile con quei dettagli là, e mi spiace poi noi iniziamo la partita male perché Danilo fa un fallo su Orsolino evitabile oltretutto il VAR funziona quando cavolo gli pare trovo imbarazzante per il campionato e non metto in dubbio la buona fede per la partita eccetera tutt'altro, me ne frega nulla se il VAR ha valutato che il contatto c'era mi fido del VAR tuttavia ne contesto le modalità in cui si sviluppa tutta la situazione però, rigore del Bologna, il Bologna va avanti poi ragazzi c'è da dire una cosa il Bologna sul piano della fluidità della manovra ha qualcosa in più di noi noi tecnicamente, individualmente, per garra, per intensità ogni tanto li abbiamo messi sotto, in difficoltà abbiamo creato delle occasioni che abbiamo buttato, ripeto, al cesso perché la Juve oggi probabilmente meritava la vittoria non prendiamoci per il culo per quanto la Juve non sia bella, per quanto la Juve abbia problemi di identità per quanto questa Juve è evidente che abbia problemi di spogliato c'è qualcosa che secondo me si è rotto inevitabilmente la Visaglia ce l'ha data la partita con l'Inter la Visaglia ce l'ha data il nervosismo palesato da Allegri è una società che cerca di buttare un po' di acqua sul fuoco per placare questa ansia, questo nervosismo perché le parole di Calvo che ha detto all'inizio partita io l'ho interpretato in tal senso, ha Allegri ha 4 anni di contratto ha il DS, non so se lo prenderemo, sì oh, non state gestendo un SPA che vende burloni io ve lo dico già, state gestendo una squadra di calcio per cui se dobbiamo analizzare la gestione di una squadra di calcio in questo momento credo che sia prioritario avere un direttore sportivo per la prossima stagione e poi avere probabilmente anche un nuovo allenatore visto e considerata la situazione di spogliatoio e il nervosismo che palesa nelle varie conferenze stampa l'allenatore, ma dettagli comunque si vede che questa squadra dal punto di vista identitario non c'è nulla, non c'è nulla c'è una squadra che è anche nervosa che il fatto che Di Maria non sia venuto per la questione della caviglia Vlaovic che non viene per la caviglia mi pare che ci siano tante punizioni individuali vabbè, situazioni che io interpreto a mia maniera non voglio assolutamente influenzarvi però non mi pare che sia uno spogliatoio in questo momento sano, lindo, bello, pulito dove tutto va come deve andare tutt'altro in tutto questo marasma di problemi però in questa partita la Juve ci mette quel qualcosa in più quel pizzico in più avrebbe meritato la vittoria e succede che Fagioli sbaglia un gol fatto perché Skuruski con la parata di piede no, non esiste a un metro dalla porta, tu quella porta Fagioli la devi buttare giù la devi buttare giù e ce l'hai la potenzialità ti saresti elevato una soddisfazione immensa ma non mi va ovviamente di castigare il ragazzo il ragazzo che si impegna e che nell'errore poverino ci convive male si vede quello sguardo nel vuoto che ha quando è in panchina quando esce il senso è questo però sono contento che Fagioli sia trovato nella situazione di poter finalizzare poi finalizzato no però ci è andato vicino mi fa piacere il fatto che uno come lui almeno si sia trovato in quella situazione perché era da un po' che non ne vedevamo roba simile su lei mi sbaglia un gol fatto anziché tirare quella castagna lui là la poteva angolare tranquillamente col portiere completamente fuori posizione con Skuruski sbagliamo un rigore poi Milik fa un gran gol per carità però una Juve che secondo me sulla mole di occasioni da gol non meritava assolutamente il pari non meritava assolutamente meritava qualcosina in più detto ciò i problemi della Juve ragazzi rimangono non è che sono spariti non è che la Juve meritava quindi quindi non è che se la Juve sbaglia tutti questi gol il pari è colpa di no il fatto è che mi dà fastidio è che perdiamo punti con troppe squadre per troppi dettagli troppi dettagli cioè questa qua tanti dettagli altre partite le perdiamo le pareggiamo per altri dettagli sì ma i dettagli li cura sempre da persona e gira e rigira oggi sbagliamo per gli errori tecnici individuali mi sta bene mi sta bene possiamo anche assolvere Allegri? va bene assolviamo Allegri ma tutte le altre volte non si può assolvere un allenatore oltretutto credo che oggi chi si è trovato lì di fronte lì vicino a far gol non abbia avuto minimamente l'opportunità di esprimersi sempre al top con continuità in tutta la stagione e di poter essere allenato di conseguenza a risolvere le partite come queste questa è una mia opinione anche qua healing che me lo scongela a momenti healing cambia la partita cambia l'inerezza della gara poi bravo Tiago Motta a utilizzare delle contromosse mette un'altra attaccante e il Bologna si rinvigorisce cerca di creare qualcosa ma il forse in finale della Juve nei movimenti nell'attacco dello spazio è tutto molto casuale non c'è nulla di codificato nei movimenti dei giocatori nell'occupazione nel senso dello spazio dei calciatori sono là quelle situazioni che bisogna allenare per portare a casa le partite sono quelle situazioni che quando stai cercando di prendere la partita fanno la differenza fanno enormemente la differenza però ripeto io oggi ho visto una partita troppo strana con troppe impressioni dalle più negative anche alle più positive per l'individualità e poi ragazzi il risultato è questo uno a uno ragazzi è inaccettabile accontentarsi di questo risultato è inaccettabile è inaccettabile giustificare questi risultati ma non Bologna Juve uno a uno perché se uno casuale su mille ci sta il fatto è che questa è la costante veniamo da un periodaccio ragazzi un periodaccio di risultati negativi super negativi che costano punti in classifica che probabilmente non aiutano a compattare e a rafforzare questo spogliatoio a unire il gruppo io ho paura dello sfaldamento del gruppo in maniera ho una paura matta di questa cosa ho una paura fottuta di questa cosa di una squadra che tende a sfaldarsi che tende a non essere più sul pezzo e guardate bene che ci sta mentalmente che molli qualcosa e concedi qualcosa in campionato il fatto è che questa squadra vi dà la garanzia di poter riprendere poi la situazione in mano una volta che si va nei palcoscini ci che conta l'Europa League per intenderci a me no a me no è un vero peccato che la Juve non abbia vinto questa partita è un peccato doppio il fatto che non l'abbia vinta con i più giovani che oggi meritavano qualcosina in più meritava Sule meritava fagioli perché mi sarebbe piaciuto vedere una vittoria firmata da loro un senso enorme di responsabilità in un momentaccio loro che ci levano dal torpore di questa situazione è quella la cosa che mi dà più fastidio levarci dal torpore grazie ad una soluzione dei più giovani questo sarebbe stato il senso più bello di questa partita e invece siamo qui sempre a commentare gli stessi errori per il resto ragazzi che vi devo dire fate la guerra allegriani antiallegriani io vi dico una cosa per il bene della Juve e della Juventus noi tifosi dobbiamo ambire molto più di così che poi ci si allegri ancora e che riesca a fare il miracolo io non ci credo neanche se lo vedo mi devo stropicciare gli occhi venti volte ma ci si allegri sti cazzi a me non me ne frega nulla cioè capite non è la guerra sull'uomo è la guerra sulle idee sui contenuti di campo che bisogna combattere è una Juve ragazzi piatta piatta che vive di folate momenti individuali forze nervose ma di costruito c'è nulla c'è molta imprevedibilità casualità il trovarsi in certe situazioni così dal nulla grazie alla giocata individuale grazie alla situazione ma questa Juve ragazzi non può essere l'ambizione di noi Juventino questa roba qua sembra la versione di Frankenstein brutta brutta della Juve che non vorremmo mai vedere non prendiamoci in giro e ripeto ci può essere Allegri ci può essere Pep Guardiola allenassero così questa Juve con questi risultati con queste prestazioni può essere c'è anche il Santo Padre per carità divina ma io ragazzi rabbrividisco nel vedere questa Juve qua in generale se poi arriva qualcun altro e mi cambia la Juve mi fa un santo piacere a me e a tutti quanti voi perché credo che noi tutti meritiamo di vedere un'altra Juve perché noi tutti ci siamo innamorati di un'altra tipologia di Juve ed è quell'idea di Juve là molto distante da questa qua molto distante poi lasciate perdere la buona volontà dei singoli però tutto molto slegato senza identità non ve lo so spiegare ragazzi boh non mi dà l'idea di squadra la Juve in questo momento punto poi speriamo di arrivare a vincere anche l'Europa League non me ne frega nulla perché io da tifoso esulto ma se poi devo ragionare sul costruito di questa stagione per la prossima ripeto io non ci vedo nulla non ci vedo nulla nulla di nulla vedo giocatori che potenzialmente potrebbero essere valorizzati in un altro modo di giocare in un altro contesto ma in questo contesto attuale della Juve credo che sia difficile anche la maturazione di chi in questo momento promette meglio altra cosa sulla partita ragazzi non c'è niente altro da aggiungere questo Bologna era battibile Bologna che non è già più nulla da chiedere neanche la classifica dai non prendiamoci in giro una Juve che spreca tanto che meritava la vittoria ma ripeto questa partita è figlia di un'annata disastrosa punto le sfighe ce le attiriamo anche noi ecco la fortuna aiuta gli audaci noi siamo stati audaci manco boh gazz in questo periodo ciao belli ciao ciao Grazie a tutti.